La siccità in Europa nell'estate 2022 è stata descritta come la peggiore che il continente abbia registrato negli ultimi 500 anni. L'assenza di precipitazioni, oltre i danni alle vegetazioni, preoccupa soprattutto per lo stato dei fiumi, dei corsi d'acqua e delle sorgenti, le cui portate nei periodi estivi si sono notevolmente abbassate. In provincia di Teramo la diminuzione delle portate e delle sorgenti minori si aggira ad oltre il 40%. Per questo motivo la Ruzzo Reti ha il lavoro per far fronte alla costante diminuzione della portata idrica e garantire l'approvvigionamento anche alle zone più interne del territorio provinciale, nell'ambito del progetto di potenziamento della rete acquedottistica e delle captazioni, affidato a un geologo uno studio preliminare su tre sorgenti già attualmente soggette a prelievi. Noi abbiamo assistito a un calo importante delle portate di queste sorgenti che chiaramente hanno poi condizionato l'approvvigionamento dei comuni serviti. In una prima istanza siamo intervenuti con operazioni idrauliche, successivamente con la fornitura tramite autobotti, tutto questo per garantire una continuità del servizio pubblico, ma è evidente che sono tutte operazioni che hanno una provvisorietà. Per continuare a dare invece una fornitura sicura e continua nel tempo, stiamo provando a fare delle analisi geologiche e geotecniche per ritrovare all'interno delle sorgenti già autorizzate eventuali vene che si sono spostate di qualche metro o di qualche decina di metri. Se le dovessimo trovare, queste nuove vene all'interno, ripeto, di sorgenti già autorizzate, non di nuove sorgenti, sarebbero da integrare alle autorizzazioni che le sorgenti già hanno in modo da renderle poi fruibili per la popolazione. Lo studio in primo luogo ha previsto la realizzazione di una mappa delle sorgenti già censite e di quelle non ancora censite in prossimità delle aree indicate per conoscere con precisione quale tra le sorgenti di proprietà della Ruzzoreti possano essere utilizzate come potenziamento. Siamo andati a cercare chiaramente anche lungo le reti distributrici, quelle minori, eventuali problematiche. Abbiamo trovato due microperdite che recuperate insieme riparate ci hanno consentito di recuperare un litro, un litro e mezzo al secondo, che comunque non è poco. Quindi c'è un'attenzione particolare a questo territorio che oggi viene penalizzato per questa diminuzione importantissima dell'erogazione di queste sorgenti minori.